Sì, è un altro importante risultato che abbiamo conseguito con la Procura della Repubblica, con i magistrati, con il Procuratore Salvi e il Dottor Fanara, che hanno seguito sin dalle prime battute l'indagine e che oggi si è conclusa positivamente sequestrando circa 2 milioni di euro. Sono delle ville, dei campi di calcio, sono in pieno centro, mi dicono anche, questi campi di calcio che ovviamente erano nella disponibilità della famiglia vacante che poi era collegata a quella Santa Paola. Di collegamenti era il cognato? Sì, aveva sposato una Santa Paola, il suocero era il più noto riferimento per Cosa Nostra, anche il vacante comunque ha avuto precedenti di tipo mafioso e oggi abbiamo concluso un'ennesima operazione importante perché è chiaro che è un segnale molto importante che viene dato a una delle famiglie più agguerrite di criminalità di Cosa Nostra.